Ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e insieme a me come vedete ci sono dei quattro personaggi molto importanti per noi della comunità di SimDrivers questa sera un'intervista particolare a tre persone che sono protagonisti per il campionato Formula 1 1991 categoria Gentleman ragazzi che è un campionato veramente che mi sta a cuore mi sono veramente affianzionato a tutti questi ragazzi giovanotti li vedete che sono giovanotti che stanno veramente facendo cose pazzesche in pista adesso avremo il piacere di poter discutere un po' insieme a loro e dicevo alla mia destra il caro Pino Sciotti che ormai il pilastro dello staff organizzatore dei campionati in generale quindi intanto un buonasera Pino grazie di essere con noi questa sera ciao Fabrizio grazie a tutti quanti e poi abbiamo Giancarlo De Caro che è lì ciao Giancarlo ciao a tutti ciao buonasera ciao e ciao a Marco Podda nella sua postazione ciao Marco buonasera a tutti ragazzi ce l'abbiamo fatta Marco stasera funziona e poi il grande Massimo Cirelli ciao Massimo ciao grazie a tutti ciao buonasera allora io inizierei subito ragazzi perché ho preparato ovviamente delle domande lo sapete chi mi segue su youtube sa benissimo che mi preparo qualche appuntino ne ho discusso con i ragazzi prima del dell'intervista la prima cosa che ci viene in mente quando siamo davanti allo schermo e vi contempliamo cioè su questi magnifici boli della formula 1 1921 è che cosa vi passa per la testa e soprattutto in questo particolare momento del campionato perché prima di lasciarvi la parola io ho la classifica che è stata ovviamente compilata dal nostro Pino Sciotti giusto per rimettere un attimino nel contesto tutti quelli che ci seguono magari che seguono anche il campionato e chi non sta scoprendo questo video quest'oggi oggi abbiamo il nostro caro Giancarlo De Caro che si sta muovendo lì che è in testa alla classifica con 89 punti seguito da vicinissimo da il signor Massimo Cirelli che è lì d'accordo a 85 a 85 4 punti c'è una classifica che è strettissima che poi è calcolata sulla base Strongman che per far capire a tutti in base alla lista degli iscritti iniziale del campionato quindi 16 per questo campionato gentlemen e quindi di conseguenza è 4 punti da recuperare su una classifica corta Strongman vuol dire che il primo prende 16 punti il secondo 15 14 13 eccetera eccetera quindi manca l'ultima gara del campionato a Monza e il signor De Caro perché adesso poi avremo modo anche di parlare un po' di quella che è la storia di quello che è successo magari Pino che ce l'ha bene in mente potrà spiegarci quello che è successo in termini di evoluzioni di risultati eccetera il signor De Caro ha 4 punti di vantaggio che sembrano pochi però in realtà sono tantissimi quindi meglio essere lì davanti con 4 punti che dietro a rincorrere e perché il signor Marco Podda? perché Marco Podda è in sesta posizione che poi discuteremo del suo campionato ma perché questa sera insieme a Pino e a tutti quanti volevamo fargli complimenti perché è assodato matematicamente che ha vinto il premio come Polman cioè quello che ha fatto più Polman, quello che ha accumulato più punti Polman si è contraddistinto in questa disciplina del giro veloce e quindi virtualmente vogliamo consegnarti il premio che consiste in un Giancarlo puoi prenderlo il tuo circuito giusto per far capire un po' a tutti di che cosa si tratta è un circuito retroilluminato d'accordo ci sta facendo vedere Giancarlo in questo caso e invece Marco ha chiesto il circuito di Monaco perché e ce lo spiegherà perché proprio Marco ha scelto quel circuito eccolo qua bellissimo retroilluminato verde solo che quello di Marco è bianco ed è il circuito di Monaco perché Marco Monaco? ma perché intanto Monte Carlo è diciamo il circuito più prestigioso secondo me, no? e poi perché là mi è uscito il giro veloce una bella pole position ho vinto la gara sono stato sempre in testa e era la gara che mi ha gasato di più quindi voglio ricordarmi con questo trofeo con la gara là, capito? bravissimo complimenti, bravo che ti sei portato il trofeo a casa e ovviamente cercherò nel post-produzione di mettere qualche immagine giusto per far vedere cosa a cosa assomiglia perché insomma qua durante la registrazione è un po' complicato e Marco anche perché in realtà ne discutevamo la classifica, quindi la sesta posizione ha circa 26 punti da Giancarlo in realtà è un po' tanto bugiarda Giancarlo lo sa, c'aveva il sorrisito nell'angolo abbiamo fatto delle copertine magazine delle copertine magazine ne abbiamo parlato con Pino non immaginate, vediamo se riusciamo a metterle da qualche parte perché Marco ha avuto una sfortuna sfacciata iniziata 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 dove Marco? è iniziata a Istanbul dove ho bruciato il motore diciamo e poi niente, due volte sbattuto fuori dal server due volte miracolosamente tenuto nel server se vi ricordate ho tagliato il traguardo e poi dopo due curve mi ha sbattuto fuori ma le ultime due Ungheria e Spa anche lì ero riuscito a fare due belle polle in testa hit stop fatto perfetto a quattro giri dalla fine o tre forse non mi ricordo mi ha sbattuto fuori a Spa mentre in Ungheria ero al penultimo giro e lì stavo già stavo già gustando la vittoria ma c'è una sorpresa quindi ecco perché abbiamo invitato Marco anche perché è protagonista comunque di questo campionato insomma per una serie di sfortune si ritrova in sesta posizione quindi per tornare alla prima domanda ragazzi cosa vi pasta per la testa perché noi quando vi guardiamo siamo in ammirazione nei vostri confronti perché comunque sono le macchine queste le Formula 1 del 1991 che sono veramente complicate da guidare io le ho provate io sono scarso di mio però sono complicate ma farci un campionato il setup viverci attorno per costruire una strategia su ogni singola gara di un campionato che comunque è molto lungo ricordiamo che sono otto gare cosa gli passa per la testa e soprattutto in questo preciso istante del campionato Giancarlo bella domanda e anche di difficile risposta diciamo che devo dire che non pensavo fosse così difficile perché comunque l'auto è tosta e mentre gareggi ti vengono in mente tante cose dalla come dire dall'entusiasmo allo sconforto a dire anche ma chi cavolo me l'ha fatto fare perché devo dire che la macchina è difficile e essere concentrati per tanti giri a quelle velocità che comunque non è da tutti abbiamo poi le piste sono state tutte belle molto tecniche molto veloci dove comunque dovevi fare sempre tanta tanta attenzione mi piace molto il percorso fatto poi c'è magari la settimana che riesci a provare di più la settimana che riesci a provare di meno quindi arrivi alla gara e dici vabbè vediamo come va stasera qualche volta sono stato molto molto fortunato qualche volta sono stato molto sfortunato perché magari affronti la curva allo stesso modo del giro precedente e la macchina si è girata sai quindi mi fa piacere il campionato molto bello e Monza sarà una tappa molto difficile perché su quei tipi di pista che poi bene o male conosciamo tutti secondo me il gap diminuisce e andranno tutti molto forte ma tutti cioè dal primo all'ultimo come dicevi tu prima i punti di vantaggio sono un'ottima cosa è inutile diciamo non pensarci perché è vero già inizi a fare un po' sai di pronostici se magari non arrivo primo posso arrivare secondo posso arrivare terzo posso arrivare quarto però abbiamo anche visto che questa macchina è particolare quindi ti deve girare tutto bene perché non è detto che io riesca ma arrivare al termine della gara ma perché magari ti si rompe il motore perché magari ti giri un po' più di una volta e gli altri ti superano come abbiamo visto magari ti sbattono fuori dal ser magari capita un incidente perché poi la prima variante di Monza è sempre un punto interrogativo però è stato bello comunque vada è stato un successo per quello che posso dire mi ha fatto piacere partecipare poi mi sta andando bene però comunque ci guidiamo un pochino diciamo siamo lì e ce la giochiamo come andrà come va va c'è una cosa che ti devo dire però ti vedo che sei molto prudente su quello che dici no ma non posso non posso dire ovvini si sente la tensione capito no si sente mi piace che sei molto contenuto molto allora escluso Marco che fortunatamente purtroppo per lui ma bene per me e per Cidelli purtroppo per lui ma per noi ci è andata bene che lui ha rutto più di una volta no perché è fuori dai giochi quindi per me Monza può fare la pole e può vincere cioè l'importante è che per i miei piani mi riesco a piazzare in una posizione che tengo massimo a bada quattro punti gli puoi cedere bene gli posso cedere quattro punti perché se guardiamo le vittorie tu sei poi si guardano le vittorie e le pole quindi tecnicamente dovresti essere in vantaggio c'è un altro dato però da tenere in considerazione dove avete 5 punti di vantaggio con Vincenzo che è stato comunque a livello di punti per quanto riguarda il team come dicevo con Massimo prima che iniziasse questo video è stato molto profiguo a portare punti appunto alla squadra che vi porta 162 punti contro 157 rispetto ad un Andrea Distasi e Dario Todisco che hanno portato più o meno gli stessi punti hanno avuto delle strategie bellissime a livello di team nelle scorse nei scorsi di Gran Premi con un Dario che comunque è a 8 punti da te d'accordo che potrebbe potrebbe insidiare anche la seconda posizione di Massimo quindi non è tutto scritto quindi sia la parte team che la parte pilota ovvio che è giusto il tuo discorso che fai io volevo solo sottolineare che c'è comunque la tensione è bello avere 4 punti però non si sa mai quello che succede quindi in questo senso qua ci mancherebbe altro guarda non ti nascondo che mi sarebbe piaciuto arrivare con più punti se tu pensi che anche io allungaro l'ingorrotto magari non arrivavo primo ma rosicchiavo qualche altro 6, 5, 4 quanti punti erano ma arrivavo con un grande vantaggio nella gara di Monza allora ho una domanda rispetto proprio al tuo percorso del campionato che l'avevo riservata per dopo però voglio farlo adesso perché si collega molto bene questa è una mia sensazione personale sei partito a 10.000 in questo campionato hai avuto dei risultati pazzeschi subito l'uomo da battere Marco è arrivato un po' dopo se non sbaglio anche se è stato subito si è fatto vedere però Giancarlo De Caro subito abbiamo detto cavolo ma lui è un pro eccetera eccetera questa posizione di vantaggio in termini di classifica ho la sensazione che ti abbia portato difetto è come se ti avesse un po' spento come se avesse acceso la luce tua strategia e che tu ti sia messo un attimino sotto a quelle che sono le tue capacità e performance e che ti ha portato oggi sia ad essere primo con una certa tranquillità di questi quattro punticini che sai benissimo che non vogliono dire nulla anche se è meglio partire con quattro punti però giustamente come dicevi tu avrei preferito partire con 10-15 punti ma sarei stato tranquillo magari me la sarei portato a casa a spa non pensi forse che questa situazione che Marco che ha spaccato più volte che tu hai avuto la possibilità di avere comunque ampio margine e ti abbia raffreddato rispetto a quelle che sono le tue vere performance sensazione personale di Fabrizio allora Fabrizio io mi reputo un pilota normale non sono molto veloce perché molte volte faccio anche molti errori ma anche perché comunque l'auto che stiamo utilizzando è un'auto che non perdona cioè è una macchina che veramente non ti perdona al minimo errore e se io analizzo il mio campionato diciamo che la gara di Istanbul alcune gare mi sono andate molto bene sono stato abbastanza veloce lo stesso Barcellona sono stato abbastanza veloce e se analizzo non parlo di Monte Carlo perché lì come sai sono partito nelle retrovie magari me la sarei potuta giocare con qualche punticino in più a Monte Carlo anche perché lì non si superava cioè era molto difficile superare quindi magari partendo in una posizione più avanzata potevo mantenere quella posizione però al di là della parentesi Monte Carlo a Spa credo che Marco ha fatto un decimo più veloce di me siamo stati gli unici due a scendere sotto il 44 e lui ha fatto tipo 1.43.8 io ho fatto 1.43.9 mentre anche Massimo ha fatto un ottimo giro che ha stampato un 1.44.1 infatti diciamo che c'è stato un miglioramento da parte mia poi ho sbagliato molto cosa che lo ammetto cioè ho fatto molti errori che mi hanno portato a spaggirarmi due tre volte quindi perché poi ti torno a ripetere le gare sono molto particolari un po' perché non tutti la pensano come te quindi c'è anche chi pensa che sta facendo la gara della vita c'è anche chi pensa che in quel momento è molto più veloce di te superare è molto difficile con questa macchina perché poi magari affiancandoti anche perdendo quell'attimo quel decimo quel minimo quel millesimo tocchi il cordolo magari ti puoi girare magari puoi rompere l'auto e termina la gara quindi ho fatto ultimamente un po' gare molto sulla difensiva con Marco è un pilota molto molto veloce ha anche si è anche molto dedicato a questo campionato perché se andiamo a scaricarci i giri fatti da Marco i giri fatti da me i giri fatti magari da Massimo e da tanti altri piloti ma con questo non vuole essere una scusante comunque lui si è dedicato molto ed è giusto che diciamo virtualmente avrebbe dovuto vincere lui il campionato per le performance che ha dato in pista quindi su questo non ci sono dubbi per quello che mi riguarda io sono molto contento del percorso fatto fino adesso certo Monza ce la giochiamo è difficile è una tappa molto difficile perché lo stesso team Tirrell che dicevi prima di Stasi e Todisco sono venuti fuori alla lunga quindi all'inizio hanno pagato un po' e piano piano hanno macinato molti ma molti punti con Vincenzo mio compagno di squadra Lonano ho avuto un ottimo rapporto ci siamo scambiati molti setup magari a volte non ci trovavamo abbiamo giocato di squadra a volte mi ha ceduto posizione cioè su questo è stato molto molto collaborativo quando abbiamo visto che tra i due io ero più avanti come posizione abbiamo cercato di mantenere quella linea e questo non è da tutti perché magari avrebbe potuto fregarsene tranquillamente su questo mi fa molto molto mi fa molto 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 piacere a parte che la coppia di Stasi e Todisco vivono in simbiosi perché comunque anche loro si conoscono da tempo hanno fatto molti campionati io ho dovuto costruire un rapporto che magari prima non esisteva quindi per me è stato molto positivo sì no perché a livello di punteggi 73 per Vincenzo è 89 per te quindi sì sì no ma Vincenzo è un periodo molto molto veloce gioca bene e anzi a volte credo che sia anche più veloce di me però è meno costante di me tra i due io sono un po' più costante anche se anche io faccio i miei errori no perché poi ti torno a rivedere fare una gara di 21 giri o quando ne abbiamo fatti 28 è molto 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 difficile veramente molto difficile su questa categoria è macchina velocissima supera i 300 km orari poi dopo un po' poi ad esempio ho notato non so magari me lo potranno dire anche Massimo Marco con lo stesso Pino ho notato che quest'auto con il carico di benzina soffre tanto quando è scarica riesci a metterla dove vuoi fai le curve in una maniera incredibile quando è carica di benzina soffri un po' e perdi quei due secondi due secondi e mezzo che devi un po' recuperare quel gap poi piano mano 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 durante la gara però le gomme si usurano e quindi la macchina inizia a scodare quindi devi trovare un buon compromesso è difficile però fino adesso non mi posso lamentare no vabbè un percorso ottimo ci mancherebbe allora Massimo Massimo allora cosa ti passa per la testa a te quando guidi queste macchine qua soprattutto come diceva Giancarlo adesso in questo momento è il campionato abbastanza particolare perché protagonista anche tu dimmi di non fare errori di non uscire da solo di non uscire da solo di non girarmi da solo come come è successo diverse volte a inizio e a metà campionato ed è solo ultimamente nelle ultime due gare dove sono riuscito a a non girarmi e comunque a contenermi per non girarmi oltre che essere riuscito nel mio piccolo aver trovato a cominciare a capire come come sistemare la macchina che che ha sento fare perché nella prima parte del campionato è stato difficile ancora lo è tuttora come trovare la messa a punto ideale perché i parametri da sistemare su cui giocare sono sono moltissimi e non ho quella competenza diciamo per la base ingegneristica tra virgolette o comunque senza le virgolette di come settare una macchina sia col pieno o con o per la qualifica tant'è vero che io soffro molto soffro molto di più in qualifica che non in gara che non a metà serbatoio comunque con la macchina non col pieno pieno perché come diceva già Carlo quando si parte i primi i primi 5 5 6 giri sono veramente c'era stare molto attenti invece con la macchina metà serbatoio diciamo paradossalmente mi trovo meglio che non in qualifica un po' anche perché non provo molto la qualifica personalmente provo più passo gara e cercare di fare le curve sempre lo stesso modo però come diceva anche Giancarlo molto impegnativo ma anche molto molto soddisfacente almeno dal mio punto di vista non pensavo di arrivare diciamo a questi livelli secondo la costanza diciamo che sta premiando la costanza di risultati anche ovviamente condita da diversi aggori però mi sto divertendo molto e mi sarebbe divertito molto comunque vada comunque vada mozza sicuramente se vediamo anche con tutti gli altri piloti il livello si è alzato rispetto alle prime gare e come ti dicevo prima come dicevo prima alla prima gare ho preso un giro e pensavo di arrivare nei primi 5 e già mi andava bene poi piano piano il distacco si è dimezzato e arrivando quarto terzo secondo e poi con un po' di fortuna domenica giovedì scorso con un po' di fortuna non pensavo sono andato primo soddisfatto per come è andata fino adesso e comunque andrà sarò ben soddisfatto di questo campionato è molto molto bello bene quindi la prima cosa che mi passa per la testa è di non fare errori di non buttare fuori qualcuno di non arrivare lungo come magari mi è successo in uno dei campionati precedenti dove erano le prime armi soprattutto quello la tensione della prima curva c'è sempre o comunque dei primi due giri ecco perfetto Marco tu sì io cosa ti dico ti dico di non uscire dal server me ne sono passato brutto sarò voglio lanciare tutto quanto dalla fine soprattutto no ma ma anche i momenti in cui succede a un giro dalla fine a due giri alla fine è un qualcosa che deve essere veramente frustrante al massimo però al di là di quelli che sono i problemi tecnici che possono essere possono succedere purtroppo i computer eccetera però tu come pilota in questo campionato diciamo a questo stadio qui arrivato in cui sei arrivato del campionato in cui e penso che Pino me lo possa confermare il gioco è ancora aperto sugli awards per Marco giusto Pino se non sbaglio puoi ancora andare a prenderti quella classifica lì quindi non è tutto chiuso per te no una buona rimonta anche se ci sono meno macchine rispetto ai pro però puoi fare quindi come pilota in pista con questa Formula 1 del 91 adesso in particolare con la vittoria assicurata del premio del Polman e la possibilità di andare a prenderti comunque gli awards cosa ti passa per la testa mi passa che dentro di me vorrei vincere questo award però devo sperare che Zampini vado a muro se no devi fare meglio di lui chi deve andare a muro no perché c'è Zampini che è quello che non mi ricordo che Zampini e Nucci sono divisi da un decimo di punti no vabbè comunque io parto con quest'ottica qua io cerco di preparare al massimo Monza e sperare di fare bene sì sì certo ma anche Massimo comunque poi c'è Cirelli c'è Decaro che sono forti mi ritroverò sicuramente lì a pochi vecimi e niente spero di riuscire a preparare bene bene ma proprio bene sta pista e che il server sia mio amico che il server mi sia amico questa la dobbiamo segnare Pino da qualche parte va bene dopo questa design un po' dei tre Pino vuoi farci dirci qualche cosina rispetto a le tue sensazioni rispetto a questo campionato pro comunque scusi gentlemen tre volte qual è la tua sensazione l'evoluzione come è stata anche se sappiamo che la classifica non è proprio onesta proprio per le disavventure di Marco però insomma quello che abbiamo visto quello che abbiamo sentito le emozioni di Giancarlo di Massimo di Marco le attese le aspettative eccetera eccetera cosa pensi tu Pino? Io prima di tutto penso che ho trovato delle persone splendide che fanno parte della nostra comunità e questo non può che inorgoglierci all'inizio non sapevo come rapportarmi bisognava un po' vedere com'era la situazione o pensavo peggio a essere sincero invece ho visto che ci sono persone che sanno stare in pista sanno correre ci sono delle persone che devono comunque imparare ma si impegnano comunque per stare al passo o comunque per evolvere ti dirò che alla fine io pian piano mi sono sempre appassionato di più dunque l'ho seguito con la stessa enfasi con cui ho seguito il campionato pro per cui mi trovo e mi appassiona la cosa poi chiaro che poi magari tieni di conto che ci sono delle persone come in questo caso qui abbiamo sia Massimo Marco Giancarlo non dimentichiamo anche Dario Andrea Di Stasi Vincenzo Nonano non voglio fare differenziazioni ma sono le persone che più lo stesso Pagnacco che ha comunque migliorato molto perché insomma aveva diciamo un trascorso di Massimo Grido invece si è anche lui ha saputo imporsi e trovo che la competizione sia stata molto valida per essere un campionato gentleman cioè tutte queste persone che ho citato potevano al loro modo figurare altrettanto bene nel campionato pro o quantomeno nella seconda parte della classifica sicuramente potevano starci tranquillamente e sicuramente i prossimi campionati li vedremo a livelli più alti dunque il mio respons la mia esperienza è sicuramente positivo sono veramente contento che abbiamo realizzato guarda io condivido pienamente il tuo pensiero in merito a quelle che sono le capacità a livello di performance sto parlando e tutto il resto ovviamente che per me e come comunità di SimDrivers ovviamente noi accogliamo a braccio aperto soprattutto personaggi così che sono veramente fantastici però sulla disamina di quello che è il campionato sono totalmente d'accordo con te potrebbero far parte dei pro assolutamente e anch'io affezionavo particolarmente questo campionato gentleman proprio per tutto quello che sta succedendo in pista le lotte che sono all'ultimo sangue ma con molta correttezza in pista i risultati che non sono mai uguali nulla è scritto è quello che è il bello di questo campionato anche Marco che torna sempre lì a mettere il coltello alla piaga malgrado le sue vicissitudini comunque riesce a prendersi il premio e può andare agli awards Massimo che torna da lontanissimo proprio lui stesso che dice mi prendevo un giro e va a vincere a Spa con 17 secondi e passa di vantaggio su Giancarlo De Caro e questo che è il bello l'evoluzione del gruppo insieme molto bello ed è molto appassionante vorrei aggiungere che lo hanno fatto e lo stanno facendo con una macchina che non è semplice come precedentemente ha sottolineato Giancarlo la macchina non è assolutamente facile dunque è un rafforzativo delle loro performance allora abbiamo un po' discusso di tutto quello che lo chiede però ho una domanda per Massimo che gli avevo già fatto prima allora alla luce dei tuoi risultati di Spa e questo te l'ho già chiesto ma il Gran Premio di Ungheria ti brucia ancora di più giusto Max beh sì la domanda non è questa in realtà no perché non c'è nulla da commentare cosa vuoi dire il fatto il fatto che il cambio corto ce l'hai spiegato però a questo punto perché io noi abbiamo sentito Giancarlo per quanto riguarda il suo posizionamento su Monza quali sono le sue paure quali sono le sue certezze eccetera Max quale potrebbe essere una strategia non per forza non per forza di setup o altre cose ma una strategia che potrebbe andarti a far guadagnare questi quattro punti c'hai riflettuto hai già qualcosa in testa lo vuoi condividere con noi no non ho ancora non ho ancora riflettuto stare stare il più vicino possibile a chi la fa la pol probabilmente Marco e stare il più vicino possibile d'accordo non hai pensato alleanze e cose ragazzi mettetevi Giancarlo dietro io sto facendo un bonifico all'onano alla prima di l'anno tutti no come dicevo vorrei riuscire a fare una una bonifica migliore di quelle che ho fatto finora dove per una volta ho sfiorato il terzo posto non mi ricordo più c'era Monte Carlo ma però c'era la squalifica di cioè la penalizzazione a Giancarlo o c'era stata un'altra occasione dove per un soffio non ero non si è restato terzo cioè si è restato terzo quello mi piacerebbe arrivare per mettere in qualifica a Monza quello si perché arrivare giù si perché arrivare giù all'imbuto se parti sesto così o quinto non lo so ragazzi a tutti e tre la prima curva a Monza non vi fa paura perché abbiamo affrontato dei circuiti in cui Chialiami praticamente la prima curva era abbastanza dolce in velocità bisognava fare attenzione a stare sulla sinistra del cordolo Alessandro Forte ne ha pagato le conseguenze la prima gara abbiamo avuto Barcellona che comunque è una curva che si fa con una certa velocità Istanbul stessa cosa eccetera Monza c'è il frenatone di prima secondo quello che è insomma è molto complessa come curva è tra le più pericolose bravo è anche la S che c'è dopo anche quella che c'è dopo il sinistra ma meno 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 perché c'è una una traiettoria e mezza puoi fare lì nella prima se qualcuno arriva da dietro se te ne tieni uno dietro bravo bravo se te arriva lungo sei finito quello sì quello sì quello sì perché c'è troppo spazio però la partenza da fermo la foga è l'ultima gara bisogna partire perfetti e veloci cercare di prendere qualche metro se ti va bene per arrivare lì davanti e avere il tempo di girare a destra e scappare sì però perché gomme fredde freni freni e infatti sì un rosario bisogna appendere qui sì ma Giancarlo tu che fai anticipi la frenata tiri la stacca no allora diciamo io prego fondamentalmente prego no fondamentalmente prego perché Monza è molto famosa per diciamo per le gare nei server pubblici dove il 90% delle volte la prima variante è un macello quindi diciamo che bisogna stare attenti poi ovviamente mi auguro che non fanno l'errore che chi dovesse partire in settima ottava non a posizione vuole frenare a 100 metri vuole frenare a 100 metri quindi ecco faremo un briefing faremo un briefing come al solito il punto è a me piace vedere partenze pulite perché è anche quello un sinonimo di crescita è bello vedere partenze pulite perché significa che i piloti accendono il cervello mentre corrono ed è bello Monza è molto difficile come pista andare veloce lo facciamo tutti ma è superare quel quid in più che è difficile perché poi anche la variante a scari bisogna vedere quando piano piano la gomma si inizia a consumare che lì arriva una velocità abbastanza elevata quindi su quel destra-sinistra che ti sposti devi vedere mamma mia io voglio rimanere sul tema della partenza però ragazzi perché voglio spingere il vizio ancora più lontano però poniamo Marco fa la poll d'accordo? tanto ormai hai vinto il poll Marco fa la poll conviene stare quindi Marco dovrebbe partire sulla destra giusto? o sulla sinistra è meglio partire secondo sulla sinistra o terzo sulla destra per rimanere o un quarto per rimanere all'esterno è difficile è difficile farti questi calcoli perché poi mentre sei lì vuoi arrivare più in alto possibile quindi sono d'accordo sì sì sono d'accordo non è che dici magari stai lì facendo no no ma nella fortuiti diciamo nel risultato fortuito tu dici ti piacerebbe partire a destra o a sinistra del tracciato sto a destra per stringere sto largo meglio a destra meglio a destra a destra sì perché comunque chiudi le traiettori ti chiudi anche se rallenti comunque tu hai l'ingresso a destra poi c'è la carambola del pit la partenza è tosta guarda io ancora mi devo diciamo applicare su Monza però l'altro giorno quando finimmo la gara ho detto mi faccio due giri a Monza per adesso non ci ho capito niente come arrivo alla staccata dei 150 la macchina se si scompone quindi per adesso e vibra tanto quindi ho detto vabbè poi vedrò grazie a tutti